cos'è il medioevo? il medioevo è un periodo storico compreso fra la caduta dell'impero romano d'occidente e la scoperta dell'america le date sono 476 d.c. 1492 476 deposizione dell'ultimo imperatore romolo augustolo 1492 scoperta dell'america ad opera di cristoforo colombo questo periodo comprende più di mille anni ed è diviso in alto e basso medioevo 143 152 176 186 187 189 21 22 22 Grazie a tutti.